Chiederemo un incontro in prefettura alla luce del nuovo DPCM, manifestazioni come la città del Natale sembrerebbero possibili. Continua ad essere ottimista il presidente della Fondazione Arezzo in Tour, Marcello Comanducci, sull'evento, l'unico per adesso non distetto del 2020, organizzato assieme a Confcommercio. Certo, prosegue Comanducci, questa curva dei contagi ci preoccupa molto e ovviamente inciderà nella nostra decisione finale. Ad ogni modo abbiamo chiesto un incontro al prefetto di Arezzo e il sindaco Alessandro Ghinelli che lo ha fatto in prima persona per capire se le autorizzazioni necessarie ci saranno oppure no. Quello che proprio ci auguriamo che non accada è che ci sia una regola come spesso succede a macchia di leopardo, ovvero che Arezzo magari si veda costretta ad annullare la sua manifestazione e poi altre simili si tengano in regioni limitrofe. Questo sarebbe deleterio sotto il profilo economico e ancor più della salute. Un altro punto dolente ci spiega Comanducci è il tempo che purtroppo è ormai scaduto. Abbiamo, prosegue, sì e no una decina di giorni per confermare tutte le forniture, altrimenti non sarà possibile tecnicamente fare la manifestazione e poi il danno sarebbe ancora maggiore. A Perugia, ad esempio, Eurochocolate 2020 è stato disdetto per ordinanza regionale a pochi giorni dall'inizio della manifestazione per i contagi anche in questa regione con numeri alti. Noi, conclude Comanducci, saremmo felici se potessimo realizzarla, seppur in una versione ridotta, perché la disdetta sarebbe davvero triste, ma la salute di tutti noi è indubbiamente la cosa più importante da tutelare.